E ciao ragazzi siamo su Castle Miner Z O Z Ciao a tutti Sempre con Pat e abbiamo voluto fare questa serie Con una strida, cioè sopravvivere senza morire 100 giorni Sarà impossibile perché moriremo appena arrivata la notte come minimo Oh si Quindi ragazzi iniziamo, muoviamoci subito Bisogna fare subito, subito gli attrezzi di base Criu vai a prendere il ferro e il carbone e io prendo il legno Ok, ah ecco qua c'è il Lucky Box, lì come cazzo si chiama Vediamo cosa trovo dentro Ragazzi bisogna essere molto veloci perché dobbiamo farsi almeno un riparo minimo per sopravvivere la notte Poi penseremo alla casa e al resto Eh ma dove? Cosa ho avuto? Ah forse dei proiettili Boh Dicetemelo nei commenti perché non ho capito Allora Io devo farmi Devo farmi il legno Ok ho preso del rame, ferro, che cazzo ho preso? Ferro Ok Un altro Lucky Box La pietra perché è utile Eh tanto la piglio anche io la pietra Eh a me serve per Allora picche, ok è, ah sì Ma i Lucky Box sono buggati, non mi danno niente Ah boo Ah boo Ah boo Allora mettiamo degli stick, ragazzi non c'è il pvp perché voglio una serie abbastanza tranquilla Però ci sono imposte Se no Patti inizia a sclerare e mi uccide Perché è cattivo Mi ricordi che ieri ti confondevi tra questi tuoni e quelli eccetera Sì ieri da me tuonava in lontananza e qua è pieno di tuoni in sto gioco e non capivo se tuonava a casa mia, tuonava a che cazzo ne so io Non capivo un cazzo, difatti sono andato da mia mamma e gli ho detto se tuona qua dimmelo Ma perché non mi spacca La roba Poi secondo me se sto gioco avessero messo più mob, cioè mob pacifici Secondo me sarebbe anche meglio di Minecraft sto gioco Sì avessero messo da mangiare in giro Le mucche, le pecore, le capre E qualunque altra cosa Il maialo FANCHIULLO Perso il lucky box Ok sta venendo notte quindi creo dobbiamo iniziare a Farci il riparo Io direi di scavare qua Dato che è abbastanza piano Ok ok Allora lì Lì Eh sono salvo Eh guarda io Sono più bravo ho messo la luce in alto Eccoli lì i mosse che arrivano Tieni la pistola pronta perché questi bastardi scavano eh Ah scavano? Eh dove Nella vecchia versione scavavano Cioè ti arrivavano anche seri qua sotto Quindi tieni la pistola Tieni un'arma melee Ok mi sa che da qua in avanti taglieremo Sì dai togliamela Tu vuole avere proiettila? Cinque euro No no avere proiettila Chi è che sbatte la porta porca puttana Ho altro amianto Non è amianto Rame Rame Ok Io non so a cinque Arrivo Io intanto devo farmi Il ferro Ho trovato una cacca di mucca Nusa Buono buono No ma fa scassare Mi fai scassare Non lo so ce ne ha fatto Oh guarda me lo accetti Accettami il tronco Ehi la gamberone Si dai sta arrivando giorno Puoi continuare No 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 Aiuto Cosa? No Mi ero buggato nello scheletro Non c'era nessuno scheletro Si Da me c'era uno scheletro Oh l'ho registrato Ma porca troia Ma non c'era niente ti giuro Allora io devo farmi un piccona Oh un piccona Stavo per morire nella prima puntata Lo facciamo ad effero? No io sono povero Io lo faccio di pietra Ragazzi ci siete? No Non ci siamo Oh ho visto un lucky blocco Un blocco laca Io ancora nessuno Ma si può correre in sto gioco Non ricordo più Guarda lì i due Oh boh io il rame non lo raccolgo neanche Non è rame Amianto Amianto Il rame mica è verde È uranio Ma mi ha dato Oh mi ha dato l'oro L'ovo Due mattoni d'oro E dai E adesso mi ha dato? Che cazzo mi ha dato? Giorno due signori Oh siamo giorno due su cento Wow Io direi che ogni episodio possiamo fare 4-5 giorni ogni episodio Eh dipende perché durano un po' eh Verrebbe troppo lungo E' arrivato il droga Vaffa Van Iucciolo Aiuto Eh un attimo devo prendere i proiettili Devo prendere il ferro Dai che si blocca nei blocchi Si blocca nei blocchi Anche gli segni elettrici si mettono Eh ricarica ricarica C'è fatto ciò che c'è Oh Giorno Ma lo colpisco Si lo colpisco Mi ha fatto la pancia rossa Madonna se mi tira le palle Non c'è brutta roba che hai detto Tirammi le palle Che si allungheranno come quelle di un novantenne C'è la musichetta guardate Per la mia canzone Guardate la musica Guardate la musica E sentite il video Aspetta è duro Sentite le immagini Del video Ascoltate le immagini Ascoltate le immagini Eccolo lì E lo uccide sempre E io prima sparo Porca L'universo Ho sparato tipo 150 colpi Arrivi tu pum 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 E lo uccidi Allora Mi ha droppato Oh mi ha droppato l'ottone Perfetto Ma guarda che culo E basta Ho droppato ottone Oro Ferro Ferro e la polvera esplosiva E la birra E la birra Morete E i lucky box Non ce ne sono più Eh non ne ho mai trovati questi Eccoli là Non è possibile Fa due passi Vediamo cosa trovo Vediamo cosa trovo Ah comunque ragazzi Ditelo nei commenti Se vi piace questa serie Ah si si Perché ricordate che No Cos'è Argento Eh Forse ho trovato argento Un ferro Non lo so Eh ferro Una roba argentata Ma porco Demonio Non te lo Cioè non esiste qua L'argento Eccolo qua Il lucky block Era una roba assurda Cinque anni Per Prendere Un lucky blocco Cinque anni Cinque anni Due pisale Cosa ho trovato Proiettili Proiettili A me farebbero comodo I proiettili Per uccidere Madonna Sta già arrivando notte Oh via 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 Creo andiamo nella base segreta Eh non so dove la base L'ho perduta io Seguimi Seguimi Oppure va via Va via Shift Va là che Corriamo Eh ma non corre un cazzo Sto Faffanculo Perché mi devono chiamare Madonna Creo sta parte Tagliala perché No no La lasciamo Guarda Poi magari mi dimentico eh Perché avete la mamma puttana Porca troia La lama La mamma Dove cazzo aveva fatto la base No seriamente Non lo so Ok Vai ne rifacciamo un'altra Il cielo guardatelo lì Una figata il cielo No è vero Il cielo è veramente bello Ho perso pat Ah è la pat Un lucky blocco Dai scendi giù cazzo Ma io sopravvivo Prendo il lucky blocco Aiuto Sento la mia A sinistra Un mostro Sento la mia destra Che è la sinistra Scappiamo Lucky blocco giù No Non scende il mio personale Ok Sono vivo E ho trombato Cosa ho trombato Niente Non ho trovato niente A me ha troppato Un bel fuscilosso E io ti spacco questo E io ti spacco questo E io ti spacco piccone E ti spacco paccaone Ah sono fuori Venitemi a prendere E siamo usciti fuori Così per uscire fuori Oh Io ho visto Uno zombo Ma poi lo zombo È zombato giù E non c'è più Non c'è più Non c'è più Dai vediamo cosa troviamo Spacchettiamo il cubo Ho trovato dei proiettili A 50.000 like Lo facciamo per voi 50.000 like Striptease di Pat Spacchettiamo anche Spacchettiamo le mie mutande A 50.000 like Lo facciamo per voi È bello a tutte ragazze Io sono Fravij E ora spaccherò un cubo Cioè mi ha troppato Un cassa di pesto di legno Un lucky block Vediamo il cubo di Rubik's Cosa ci Rubik'sa Aia mi ha rubik'sato le gambe Il culo di Rubik Il culo di Rubik Vediamo un po' Allora Dentro il cubo c'è Dell'oro E c'è un altro cubo C'è il mio amico dell'oro E questo? Cosa conti? Un altro Ma che culo rotto che ho No è interro Ma non è rotto Però Si dice così Altro oro Io Il tuo amante segreto No no io no Io non avvero amandi E non avrei neanche amande Le battute in questo video Fanno proprio pietà al cao Al ca Al cane Mi invento già pure Uno scheletrigno È d'argento Perché è d'argento? Ho trovato anche Qualcuno mi ha rubato un'arma Crivo sta arrivando a notte Ciao notte Come stai? Tutto pene? Sto pene Sto pene E io mi son fatto male Ecco una cosa brutta È che non c'è letto su sto gioco Eh no Infatti non si dorme Infatti non so con quale Con quale voglia Allora Ti proteggo io Ricarica ma anche qua Non si può sparare Mentre si ricarica Guarda lì Non vuoi entrare? Guarda lì Tu sei? Sono qua sotto io Ma io non ti Occio ma io non so dove Occio ma io non so dove Occiarti Ma vorrei che tra i miei Tutto aperto qua Ah ho visto Ciao Ma io da lì Il mio nome è Ciao Occio che entrano i mostri Figa Adesso sono diventato milanese Ok Questo qua il buco che usiamo Per vedere se è il giorno E basta Questo qua il buco che usiamo Se dobbiamo fare qualcosa E niente Per questo video è tutto Perché è notte Perché è da 40 minuti 41 Che sto registrando E lui si strae nel furgone E niente Noi concludiamo questo video Spero che non sia troppo noioso Fare un bel po' di tagli E diventerà tipo di 10-20 minuti Sto video E niente Abbiamo fatto Oh minchia Abbiamo fatto chilometri 443 metri Quasi mezzo chilometro E nulla 488 Sei un ribellino te E invece io sono stanco E niente Posso concludere il video Certo Certo Ciao a tutti Ciao E al prossimo video F12 Ciao a tutti Grazie.